Di Scalfero Mattarella ricorda la lezione di cattolico attento alla laicità della politica, di europeista, ma fautore di un'Europa politica e non ragionieristica, soprattutto di custode delle istituzioni in tempi difficili, convinto che il rispetto delle regole sia indispensabile alla democrazia. Continua il lavoro di messa a punto della manovra economica.